Farò un giro lungo. Studiando il modo in cui le femministe lavoravano sul privato e studiando in particolare negli ultimi anni l'archivio di Michelle Perrault, la storica, mi sono accorta, ci siamo accorte, che lei qualificava di pubblico anche tutte le cose estremamente riservate e intime che aveva messo nel suo archivio che è stato dato all'Archive Nazionale a Parigi sotto una condizione essenziale. E questa condizione è che ogni gesto, esercizio di parola, militanza fosse indirizzata a, tesa dentro un rapporto ad altre o ad altri. Questo si chiamava pubblico, per cui in realtà un carteggio epistolare, anche se privato, con una compagna, era pubblico per lei perché era politico, ed era politico nella misura in cui veniva condiviso. E così spiegava, per esempio, i gruppi di autocoscienza. Questo era, parlava di cose estremamente spesso intime, ma era immediatamente pubblico perché era politico. Allora io mi sono detto, in realtà, venendo qua e avendo detto a fatica però, perché l'esercizio lo richiedeva, quello che volevo dire il 3 gennaio al Père Lachaise, mi sono chiesto cosa vi potevo raccontare. Cioè sicuramente non vi racconto le cose mie di Tony degli ultimi 27 anni, perché sono fatti miei. E però allo stesso tempo siete tutti qua e avete tutti una storia con Tony, e ognuno ha la sua di storia, anche questo è un registro privato. Allora cercavo di articolare la chiave tra questo privato che non si può dire perché appartiene a ciascuno e ciascuna di noi, e poi quel comune che tutto sommato comunque è. Ed è un comune che non è un bene comune, cioè non è una cosa che ognuno ha, possiede, perché Tony odiava la proprietà e quindi l'idea che Tony possa appartenere a qualcuno, a meno, ancora di meno, era una cosa totalmente contraddittoria nei termini. E mi sono detto, quando si dice Tony è qualcuno, e non qualcosa, di comune, è perché ognuno di noi ha un'esperienza con Tony, con epoche e modalità diverse, con testi diversi, con testi anche politici diversi, e questa tensione fa sì che ogni cosa, anche la più intima, diventi immediatamente politica. Per cui io posso dire, per esempio, e Beppe dirà delle cose che comprendono quello che potrei dire, perché io ho incontrato Tony più o meno nell'Istazia, tu molto più piccolo perché eri italiano, io non avevo nessun tipo di predestinazione, cioè io sono francese, sono nata nel 66 e ho fatto le scuole buone, per cui in realtà ho studiato sui testi, e poi con un gruppetto di gente che poi sono diventati i miei colleghi e che eravamo ancora ragazzi in scuola normale, ci siamo detto, chi possiamo far intervenire, chi possiamo invitare, e i due nomi che ci sono venuti perché per noi erano grandi filosofi, non politici, almeno uno era un politico, ma insomma erano Agamben, che abbiamo invitato, che è venuto, che nessuno conosceva in Francia, ancora poco in Italia, vi parlo dell'89, 90, e poi Tony perché c'era il libro su Spinoza, e quindi così abbiamo visto Tony, avevamo 23 anni, e quindi questo è il primo incontro, poi ho incontrato Michael per caso in biblioteca, che mi ha detto c'è un seminario pazzesco, vieni, sono venuta, e il primo shock è di vedere gente che legge la Gazzetta dello Sport, seminario, e vi giuro che per qualcuno che viene normale, vedersi che quando si scocciavano, aprivano il giornale, al di là dell'aneddoto, era una libertà pazzesca, si aveva diritto a dire che non era interessante, per esempio, ho diritto a dire che c'erano altre cose da dire. Ora, questo è il primo punto, al di là dell'aneddoto, per esempio, il mio modo di trasformare l'aneddoto privato in qualcosa di politico, c'era un modo di studiare, io faccio la docente, sono ordinaria, però quello che cerco di trasmettere, perché c'è un modo di studiare, che non è studiare e poi porsi il problema dell'adequazione tra quello che si legge, si studia, si sa teoricamente, e quello che chiamavi l'ideologia prima, e quello che si fa. Il problema non è l'adequazione tra le due cose, il problema è facendo imparare esattamente come si impara sui libri, e non distinguere i due registri, e questo per esempio è una costante, mi sembra di tonica, una forza di studio allucinante, leggeva e stava al tavolo ogni giorno, e fino all'ultima settimana prendeva appunti, studiava e prendeva appunti, e ascoltava, che era un'altra fonte per imparare. Però non è che uno doveva poi costruire un comportamento in adequazione con le idee, le idee erano immediatamente materializzate nella vita, non c'era differenza tra la vita e l'intelletto, in questo era assolutamente spinosiano, questo è il primo punto. Quindi per me è stato uno shock che mi rimane tuttora e che cerco di trasmettere come prof. La seconda cosa è che ci diceva, e anche questo è un punto teorico, ma è un punto immediatamente pratico, ogni cosa ha una sua forma di storicità, tradotto in termini banali, beh capita che quello che chiamiamo la figura dell'operaio si trasformi. L'operaio di Pasolini, l'operaio col fazzoletto al collo, non esiste più. Per esempio, c'era questa antipatia per Spasolini. Per questo, perché il tempo non è fermo, per cui in realtà se voi mettete, testi che io ho scoperto molto più tardi, perché ancora la volta non ero italiana, ma l'idea che dall'operaio massa si passa all'operaio sociale, l'idea che bisogna formulare qualcosa, quello di cui parlava l'ipotesi impero, l'idea più recente che impero ormai ha più di vent'anni, il testo era finito quando lui è tornato in Italia nel 97, ha 25 anni, per cui le linee si sono spostate, quindi il lavoro non è che impero è falso, va modificata la descrizione e quindi bisogna studiare, studiare cosa vuol dire? Vuol dire fare e fare inchiesta, questo è, bisogna indagare. Ora, questa cosa della storicità è teoricamente una cosa costruita, per chi interessa è nei lavori di Tony all'inizio sulla storicità, su Diltai, su Meinecke, su Trotsky, c'è una base teorica sullo storicismo tedesco, però è anche una cosa che orienta immediatamente il lavoro politico, non state le mani in tasca, guardate, il mondo cambia, che tipo di categorie, che tipo di concetti, che tipo di pratiche potete sfornare per rendere conto del mondo che cambia. E i momenti di, i pochi momenti di disperazione che ho visto a Tony sono i punti, i momenti di blocco, i momenti di, l'idea che non venivano fuori categorie adeguate per capire il reale, che di solito durava poco, perché poi alla fine costruiva qualcosa, per esempio davanti alla guerra, ultimamente, che diceva non ho abbastanza per capire quello che sto succedendo, ma questo non voleva dire, sono disperata, voleva dire devo mettermi a lavorare, dobbiamo metterci a lavorare, quindi teoria pratica, storicità, terza cosa, poi non voglio monopolizzare la parola, dentro questa cosa della storicità, cioè del fatto che le cose hanno una storia e le determinazioni storiche incidono e quindi provocano anche cambiamenti radicali, bisogna anche accettare questi cambiamenti radicali, perché la storia è discontinua. I soggetti, soggetti politici non sono i soggetti politici, soggetti politici sono anche loro soggetti a un gioco di determinazioni che li fa cambiare, per cui in realtà la figura del precario, per dirne una, che abbiamo conosciuto tutti perché siamo figli di quella generazione, io sono più grande, però insomma ha cominciato con la mia, la figura del precario come nuovo soggetto proletario è per esempio il segno di questa trasformazione. Ora, anche lì, l'idea che la trasformazione non è soltanto la scomparsa di qualcosa e l'emerge di qualcosa di nuovo, ma che a volte le cose si sovrappongono, per cui c'è il residuo di quello che c'è stato una volta e che continua a esserci, poi la sovrapposizione di figure totalmente nuove, che non combaciano e che mettono in crisi tutto un apparato critico e politico che esisteva. E anche questo è difficile. Fate capire al PC che la classe operaia è cambiata, che c'è sempre, ma è una nuova composizione di classe, per esempio. Ancora qualcuno fa fatica. Ed è lì, per esempio, che ha incontrato, con enorme profitto, tutto un continente di pensiero francese. Su questi tre ultimi punti, per esempio, incontra interamente il pensiero di Foucault, con altri versi. Con la differenza che però la sua era una costruzione che usciva da una stagione di lotta, che era la vostra, che io non ho conosciuto, se non di striscio, e in modo indiretto, però si arrivava allo stesso punto. E poi, anche questa è una cosa che tu dicevi, che io me lo sento ancora nell'orecchio martellato, il capitale è un rapporto. Il capitale è un rapporto. Il capitale è un rapporto. Io ho letto il capitale pensando che il capitale è un rapporto. E in effetti questo vuol dire due cose. Vuol dire che il rapporto non è mai saturo, non c'è mai saturazione nel rapporto di potere. C'è sempre conflittualità possibile, c'è sempre modo di spostarli lì, ne direbbe Foucault. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che, dentro questo rapporto di capitale, c'è qualcosa come una strana eccedenza che si libera. E questa eccedenza a cosa si deve? Cioè a cosa si riconduce? Beh, si riconduce al fatto che le persone sono, a loro volta, in rapporto con le altre. E questa cosa che, boh, io ho conosciuto Tony bene dal 91 in poi, quindi sono più di 30 anni, che lo ossessionava e che era, allora, lui usava rapporto e non relazione, ma che una persona, in quanto tale, non ha valore. Non è che non ha valore, è che non ha esistenza. non esiste l'individuo. È vero. Non esiste una condizione di assoluta solitudine. Avevamo un progetto di libro in comune che era una critica politica della solitudine, che non l'abbiamo fatto e che dovevamo fare, ed è peccato. Perché in realtà una critica politica della solitudine vuol dire che non esistono le persone isolate dalle altre. Magari i rapporti con gli altri o le altre sono rapporti di conflittualità estrema, però sempre il rapporto è. Ed è il senso di quello che ho provato a dire a Parigi, cioè che bisogna sostituire assolutamente il termine individuo, ciò che non può essere diviso, quindi l'elemento primo, con qualcosa che lui chiamava singolarità, che è sempre in tensione o in rapporto con altre e altri. E questo dà lo spessore, è la trama di tutta la vita di Tony, di tutto quello che può essere un movimento, di tutto quello che voi siete oggi, ognuno con la sua memoria, le sue immagini, i suoi racconti di Tony, che io non ho, abbiamo tutti un frammento. Quindi singolarità e non individuo, individualità. Quando io ho fatto questa cosa qua mi avete fatto il piacere, l'onore di riprendere il testo che avevo scritto per il 3 gennaio, ho visto delle cose allucinanti, ho visto delle dichiarazioni infiammate di femministe di cui non farò il nome, anche io lo sono, provo a esserlo, dicendo, eh ma sì, ma non ho inventato niente, il termine relazione è nostro, perché non si citano le origini, bla bla bla, ma non è il problema della paternità o della maternità, del termine relazione, dite rapporto, dite che c'è sempre comunque l'attenzione che vi porta ad un altro, ad un'altra, a tanti altri, a tante altre, e su questo vorrei finire. Ci sono due cose che per me caratterizzano fondamentalmente toni, che non sempre forse sono delle qualità, non lo so, ma che per me lo erano. La prima è una totale curiosità, questa capacità di meravigliarsi per ogni racconto di situazione nuova, di inizio di conflittualità, di elemento non previsto, quello lo mandava come bambini, in estasi, prendeva appunti e poi si metteva a cercare per pensare la cosa, però prima ascoltava, e ascoltava non per bontà, per moralità estrema, per rispetto dell'altro, ascoltava perché imparava, era il suo modo di imparare, ascoltare, far parlare agli altri, mai di strapiombo, sempre all'altezza. E questa è una lezione, anche questa per me è fondamentale. La seconda cosa è la potenza e la capacità, ma è difficile, di indignazione permanente, la quale è pesante da vivere al quotidiano. Perché quella indignazione in realtà cos'è? Allora, definizione dell'indignazione nell'etica, terza parte dell'etica di Spinoza, è l'odio per il male fatto ad altrui. Implacabile. Il fatto che il male è fatto ad un altro, o un'altra, ma basta uno, può mandarvi in uno stato di odio, che se lo lasciate esprimersi così com'è, non serve a niente, ma se gli date una forma, allo stesso tempo una forma teorica, una forma pratica, e una forma condivisa, diventa potente come motore politico. E questa potenza di indignazione Tony l'ha sempre avuta, e l'aveva ultimamente non solo sulle guerre in generale, in una situazione, in un contesto, quello francese, in cui il fatto di dichiararsi contro la o le guerre è pressoché impossibile. Quindi curiosità e indignazione, queste sono le due cose che fanno di Tony qualcuno che non poteva essere ricondotto a se stesso. E anche questo, poi chiudo su questo, mi aveva detto ultimamente in occasione di questo libro sciagurato che è uscito sul 7 aprile l'anno scorso, di cui non ricordo neanche il nome dell'autore, talmente era schifoso, il libro era indecente e pieno di falsità, ma ormai sono 40 anni che si sa, e non c'è più speranza e pazienza. Ma aveva detto la cosa più violenta che mi sia capitata è il fatto che in realtà su questa vicenda degli anni 70 e sul 7 aprile in particolare abbiano messo il mio nome. Non perché era infame quello che veniva raccontato o infame il 7 aprile, anzi questo era un titolo di gloria, no, era infame il fatto di aver ridotto quella vicenda che era una vicenda collettiva a qualcosa che era un percorso individuale. E quella era una cosa che lo mandava in uno stato di rabbia totale, perché in realtà tutto quello che lui ha fatto dai primi anni dell'impegno, quindi anche negli anni 50, io ho delle foto in cui fa inchiesta con la cravatta, il quadernino e la penna e interroga le persone, e ha 20 anni. Quindi dai primi anni fino alla settimana del 10 dicembre quello che gli interessava era costruire con gli altri, costruire con le altre. Cioè interrogare, essere coerente, non aver paura della storia, non aver paura delle differenze, cogliere il tempo che passa e poi ogni volta che c'è un punto di leva possibile provarci. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Grazie.